Il vino si produrrà dove oggi si raccolgono castagne e marroni. Più che una provocazione è l'avvertimento lanciato dagli studiosi sull'impatto delle temperature sempre più torride sulla struttura dei vini e sulla loro produzione. Per non restare inermi di fronte alle conseguenze di questa delocalizzazione epocale, Coldiretti e Vigneto Toscana hanno proposto un dibattito in occasione dell'ultima edizione di Vinitaly. Questi cambiamenti climatici che ormai sono una realtà, secondo uno studio in cui ha collaborato anche l'AMMA, si produce un meccanismo per il quale in realtà nel 2050, non toccando nulla e non facendo niente, avremmo una situazione nella quale potremmo produrre vino attraverso le viti che potrebbero essere coltivate solo nell'alto appennino. Questo ovviamente noi speriamo che non avvenga mai, ma dobbiamo prepararci. Quindi abbiamo parlato di queste opportunità di innovazione, di attenzione a quelle che sono poi anche tutte le tecniche agricole di coltivazione, ma soprattutto anche per quanto attiene alla trasformazione che può essere fatta in modo naturale, sia chiaro non parlo di OGM, ma di ETEA, quindi di accelerazioni da parte dell'uomo attraverso della ricerca che ha fatto Crea, in maniera da avere dei vitigni che siano più resistenti sia alle temperature ma anche alle malattie tipiche di questo tipo di attività. Quindi abbiamo lavorato immaginando un futuro che non può essere lasciato a se stesso.